Ciao, hai un'agenzia di viaggi e vuoi offrire ai tuoi clienti un servizio in più? Allora stai con noi, eh sì, ho qualcosa che fa per te. Buongiorno da Nemea Viaggi. Io sono Emanuela. E io sono Manuela. Oggi stiamo qui per presentarvi un servizio comodo, affidabile ed economico per i vostri trasferimenti in tutti gli aeroporti del Nord Italia. Stiamo parlando di GoOpti, un servizio che abbiamo personalmente testato e promosso e che vi invitiamo a conoscere in agenzia qui a Bussolengo, in piazzale Vittorio Veneto numero 15. Potete trovarci collegandovi al nostro sito nemeaviaggi.it. Vi aspettiamo. Ciao! Vi mandiamo dappertutto, ok? Ne vediamo di oggi. Ciao! Hai visto? E allora, se anche tu vuoi diventare il nostro partner, il partner ufficiale GoOpti, vai su www.goopti.com e li troverai tutte le informazioni del caso. Ok? Ci conto! Ciao! 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 Grazie a tutti.